Il progetto pluridecennale che vede la collaborazione appunto dalla scuola comunale, la filarmonica e l'istituto comprensivo Giuseppe XXIII, Giovanni XXIII, che appunto vede coinvolti, nonostante l'anno pandemico, una decisione vastissima di allievi che saranno più di 70. Per quest'anno pandemico sono stati raggruppati in gruppi più piccoli per mantenere l'effetto bolla della scuola. Ma comunque sono sempre lezioni collettive nella vocazione bandistica e dei valori bandistici della musica d'insieme, che da sempre rappresentano sia la banda, sia la scuola di Colgio, che questo progetto. I bambini avranno la possibilità di studiare lo strumento in maniera collettiva. Questo porterà appunto alla possibilità, il prossimo anno si spera, di poterli poi mettere tutti insieme a un concerto e la possibilità di continuare poi eventualmente anche lo studio collettivo sempre presso la scuola comunale.